Registro regionale Badanti e Babysitter, raccontiamo questo progetto. Dunque è un progetto sviluppato da Regione Liguria attraverso una rete di soggetti di terzo settore che ha l'obiettivo di arrivare a codificare il lavoro dell'assistenza domiciliare e di andare ad agevolare la fruizione di questo servizio. Come si sviluppa sul territorio? Allora a regime ci sarà un registro fruibile da qualsiasi cittadino che si troverà sul sito di Regione Liguria e che permetterà l'incontro domanda offerta di lavoro e soprattutto permetterà anche di acquisire tutte le conoscenze necessarie per poter svolgere questo lavoro nel migliore modo possibile. Le tempistiche quali sono? Allora già oggi il registro è in funzione ma attraverso 22 sportelli i cui indirizzi si trovano sul sito di Regione Liguria e con novembre del 2020 sarà totalmente online e fruibile a tutti. Sicuramente questo progetto punta molto sulla qualità e infatti attraverso collaborazioni con le partecipate di Regione, in particolare con Alfa Liguria punta su percorsi di formazione mirati per le assistenze familiari.